Ciao a tutti! In questo periodo in cui siamo un po' isolati per questioni di salute pubblica, il mio vicino sta utilizzando il flessibile. Io non so usare il flessibile, faccio un po' di rumore usando l'organetto. Ho imparato un brano da un disco della Zappa Russa che se non sbaglio si chiama La Borea dal Bianchi. Visto che queste sono le occasioni migliori per sfruttare il proprio tempo in casa ve la suonò il registro e poi vi amando. Ciao ciao! La Borea dal Bianchi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!